Ugolotti, possiamo dire che questa è la vittoria della speranza con un gioco di parola? Ah beh, certo! È una vittoria che ci permette di rimanere nel gruppone, di guardare al lavoro che dobbiamo ancora fare con più entusiasmo, perché adesso è una seconda vittoria consecutiva in casa, portare questa mentalità di rendere la vita difficile a tutte le squadre che vengono qua, indubbiamente qualche cosa di positivo per il rush finale. Sappiamo che non abbiamo ancora fatto niente, però se non avessimo vinto questa partita è normale che un'altra giornata, rimanere a tre o quattro punti di distacco diventava sempre anche mentalmente molto difficile. Oggi un risultato è andato a nostro favore, ma è andato a nostro favore perché stasera abbiamo fatto questa vittoria. Io penso che per 60 minuti abbiamo visto forse un bel Teramo, che ha chiuso tutti gli spazi, il protagonista dietro con una fase difensiva molto intelligente, molto applicata. Di fronte avevamo l'attacco col capomoniere del campionato, perciò un po' di preoccupazione ci poteva essere. Abbiamo concesso poche niente, abbiamo concesso solo il primo tiro, mi sembra che è stato il gol che hanno fatto di testa. Poi è normale, siamo andati un pochettino in affanno perché è una squadra che sta sempre rincorrendo dall'inizio dell'anno, di conseguenza quando vedi sfuggire un pochettino il risultato ci sono stati quei 10-15 minuti in cui onestamente siamo un po' calati. E poi dopo una situazione del gioco da fermo ha creato, avevamo avuto anche l'occasione con Ilari. Loro sono stati pericolosi perché sapevamo che se perdevamo palla in mezzo al campo loro sono molto veloci a ripartire. Questo con la stanchezza si è un po' accentuato e loro hanno rischiato, hanno avuto qualche occasione in più. Golotti, parliamo un attimo anche di questo pubblico, di questi tifosi, perché oggi si è rivisto uno stadio con tanta gente, con grande calore. Credo che questa vittoria sia anche merito di questa tifoseria. Io ho sempre detto che l'entusiasmo del pubblico dipende da noi, non possiamo aspettarci che essendo penultimi in classifica ci sia tutto questo entusiasmo, è una tradizione un pochettino italiana. All'estero funziona un po' in maniera diversa, per cui anche se le cose non vanno nel verso giusto, in un'annata c'è sempre grande entusiasmo. Dobbiamo essere noi a riportare l'entusiasmo, con queste prestazioni, con questa dedizione sul lavoro, non mollando mai fino all'ultimo secondo. Vista la vittoria di stasera diventa ancora più fondamentale, perché poi dopo noi abbiamo due partite in casa. È normale che uscire indenni con un risultato positivo ad Ancona ci permetterebbe poi di fare due partite in casa con Reggiano e Forlì, con un'ottica un pochettino diversa. Torno a ripetere, nella classifica che abbiamo dobbiamo guardare a noi stessi, perché è normale che se noi vinciamo le partite non dobbiamo preoccuparci degli altri. Però siccome non siamo inarrestabili, il nostro percorso non è stato un percorso netto fino adesso, dobbiamo sperare che anche i risultati delle altre partite ci vengano a nostro paura.